La decisione di Luca Bianco, l'assistente scolastico transessuale che si è presentato in classe con parrucca bionda e abiti da donna, ha scatenato molte reazioni in pochi giorni. Chi non è affatto d'accordo, chi non vede nulla di male, chi discute semplicemente la modalità di comunicare la scelta. Sicuramente colleghi, dirigenza scolastica e studenti dell'istituto Scarpa Mattei di San Donati Piave hanno dimostrato la loro vicinanza all'assistente, che d'ora in poi ha detto di voler essere chiamato Chloe. Ma alla scuola superiore hanno bussato i dirigenti tecnici dell'ufficio scolastico regionale, l'ufficio periferico del ministero dell'istruzione, quindi da Roma. La responsabile ha chiesto di raccogliere la documentazione utile per far luce sul caso, ascoltando la versione dei fatti delle varie parti in causa. Ma non finisce qui. La cherel che ruota attorno a Chloe sbarcherà anche in Parlamento. L'ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, secondo cui sarà l'ufficio scolastico periferico del ministero dell'istruzione a informare l'assessorato regionale alla scuola sull'esito dell'inchiesta. Come assessore ha spiegato, non ho praticamente poteri se non quelli di indicare le linee guida del piano dell'offerta formativa e stilare il calendario scolastico modellandolo sui 200 giorni a disposizione. Un po' poco ha ribadito Donazzan per rispondere al giusto sdegno dei genitori degli alunni che si sono trovati davanti un signore vestito da donna. L'assessorato è impotente davanti a certi fatti incontrollabili. Donazzan ha inoltre inviato una propria relazione al senatore Piccoli perché nei prossimi giorni possa presentare un'interrogazione parlamentare.